Il successo straripante della città del Natale di Arezzo, testimoniato dal numero di presenze che hanno superato ogni record delle edizioni passate, ha caratterizzato anche le visite nel mercatino di Piazza San Jacopo. A differenza del mercato tirolese di Piazza Grande, qui si espongono piccole aziende o artigiani del territorio aretino. Apprezzata anche per quest'anno l'iniziativa che è parte integrante del mega evento della città del Natale. Ma bene, sta andando bene, i giorni vicini al Natale c'è stata molta molta gente, quindi siamo felici. C'è stata gente anche il 26 e il 27, quindi siamo molto contenti. Siamo tutti abbastanza soddisfatti, l'affluzzo è stato positivo, specialmente nei giorni prima delle feste e ancora comunque c'è un buon livello di afflusso. Diciamo che siamo in linea con lo scorso anno, all'incirca siamo lì. La gente se ne è vista tanta, tanta, tanta. Il mercatino qui in Piazza per me è andato bene, dai non mi lamento. Comunque la gente che viene per vedere anche la città del Natale viene comunque a vedere anche questi mercatini qui, quindi molto bene. Una soddisfazione da parte degli espositori che porta già le conferme per il prossimo anno con il mercatino che ci sarà anche per la nona edizione della città del Natale.